è un po' tardi per una diretta ma con la bambina piccola non ci sono grandi orari per poterlo fare volevo farvi vedere il mio anticipo di campagna 16 questi sono tutti i prodotti ordinati è solo un anticipo appunto, non c'è niente di definitivo è solo un quarto dell'ordine della campagna 16 che invierò l'ordine finale il 31 di gennaio allora, questo è un nuovo bagnoschiuma che uscirà nella campagna 17 si chiama Goodnight Sweetheart ed è buonissimo è di colore blu quindi ha anche un colore molto particolare ha un profumo molto dolce quindi magari a chi piacciono più i profumi floreali non lo gradirà però è molto molto buono per bagnoschiuma e altro fondotinta 4,99 euro questo è l'extra lasting ovvero un fondotinta a lunga tenuta che dura almeno 18 ore maschera viso della Planet Spa che è la nostra linea spa appunto a base di perle e alghe marine poi abbiamo due tonalità delle nostre perle di terra solare abbiamo Deodorante Mesmerize Roll On per lei abbiamo ben quattro eyeliner gel neri sono quelli a matita quelli che erano una volta i super shock adesso sono diventati mark hanno un colore intensissimo sono facili da stendere sono fantastici sono matite temperabili ma la consistenza della mina appunto è in gel quindi sono molto molto facili da stendere da applicare molto ben sfumabili sono veramente fantastici hanno un colore ad alta definizione queste sono le matite color trend matite eyeliner matite classiche temperabili colore nero queste qua abbiamo mascara ultra volume abbiamo alcuni prodotti della nuova linea Planet Spa al carbone questo è il detergente viso questa è la spugna al carbone e questa è la maschera abbiamo ben due creme mani una all'olio d'argan e una alla glicerina e vitamina E deodorante Roll On del Far Away il nostro super profumo vendutissimo nuovo profumo Pure Blanc Harmony con abbinato il deodorante Roll On ben due bagno schiuma da 500 ml i nostri bubble bath che vanno sempre a ruba perché sono veramente fantastici basta vedete il tappino mettere un tappino di questo nella vasca o sulla spugna e li lavate dalla testa ai piedi questo è all'orchidea e questo è all'orchidea gardenia molto floreali molto freschi questo invece è un bagno schiuma da uomo un gel doccia da uomo detergente corpo e capelli Amazon Jungle contiene della menta e salvia e sandalo questi sono due nuovi emollienti labbra con olio di cocco olio di jojoba e olio di avocado sono emollienti labbra sono leggermente colorati uno ha i glitter e l'altro no quindi uno è un po' scintillante l'altro è semplicemente un emolliente tipo lucida labbra mettiamola così molto molto buono questo è quello più tra virgolette scuro e quest'altro il shimmering petal è leggermente più chiaro ed è quello con il blitzer quello più chiaro come sentite c'è chimera che strilla eccolo qua poi abbiamo l'ozione corpo del profumo today della linea TTA today tomorrow always buonissima una linea vendutissima abbiamo l'acqua profumata della fragranza incandescence che è molto simile allo jador di Dior ben tre pezzi del nuovo surreal sky che è il primo di una linea di profumi che usciranno più avanti questo qua appunto è lo sky poi ci saranno ocean, forest eccetera anche questo molto molto buono ce l'ho anche io questo qua però sono per tre clienti che appunto me l'hanno sentito e l'hanno voluto ordinare base per unghie sette in uno quindi leviga le unghie le rinforza eccetera eccetera abbiamo due creme crema giorno e crema notte della linea platinum la linea per le pelli più mature abbiamo un correttore il mascara nutriente abbiamo i nostri due stupendi set di beauty che sono abbinati alla linea Avon True ogni due prodotti della linea Avon True acquistati potete avere uno di questi bellissimi set veramente eleganti guardate poi che colori questo è quello rosa più grande questo invece è leggermente più piccolo ed sono veramente stupendi poi in foto non si vedono benissimo ma vi assicuro che dal vivo rendono tantissimo e poi per ultimo abbiamo l'olio secco per il corpo buonissimo a base di olio di jojoba che nutre la pelle ma ovviamente non va a ingrassarla come sentite c'è mia figlia che sta ridendo come una pazza niente volevo farvi vedere questo piccolo in realtà perché per me è un ordine molto piccolo di solito ricevo molti più pacchi questi erano tre pacchi di prodotti compresi cataloghi vari campioncini se volete il catalogo nuovo se volete qualsiasi cosa campioncini se volete ordinare sul mio profilo Instagram ci sono tutti i contatti buona serata a tutti